Ciao a tutti! Io sono Valentina, io sono Gabriella e benvenuti in un nuovo video! Allora ragazzi, buonasera! Quasi buonanotte! Quasi buonanotte! Stiamo girando questo video tardissimo perché sono le... Penso le 9 e mezzo può essere... Sono le 9 e un quarto, no, ho messo la pila! 9 e un quarto! E stiamo girando questo video a quest'ora perché oggi è arrivato un pacco della scorsa settimana che ha ordinato Gabriele e siccome è la pausa pranzo, lo sapete perché lo vedete nei vlog, abbiamo pochissimo tempo perché Gabriele arriva a casa all'una e alle 2 e mezza esce già e ci teneva particolarmente tanto a fare questo video, infatti, rendetevi conto, Gabriele per dirmi alle 9 e mezza di sera Amore, facciamo il video! È perché ci tiene veramente tanto! Quindi questo è il suo bel pacchetto Sì, apri tu! Allora! Iniziamo! Allora, non so se gli si vede al contrario ma ho ordinato l'Asia Market che è un negozio online per cibo asiatico, perugiano, penso ci sia anche roba tailandese, indiana, fuori tutto il mondo E ci sono un sacco di cose veramente veramente carinissime e anche a bassissimo prezzo direi Sono un po' meno del negozio, certe cose, altre cose online al momento non sono disponibili Se volete che Gabriele cucini, continui a cucinare anche in stile nerd in cucina come l'ultima volta Allora, ho bisogno di un pochino di materiale per preparare delle cose per voi Dico noi ma in realtà è Gabriele lo chef Che tra l'altro, di quanto ci sei rimosso bene per i complimenti Ah sì, grazie per il grembiule e per la carta Soprattutto per il grembiule perché la maggior parte dei commenti ragazzi erano referiti al grembiule bellissimo di Gabriele che gli regalai due anni fa, mi sembra perso un valentino Allora, quindi, forbici e a te l'onore di aprire il pacco L'ha spettato veramente con ansia Non abbiamo scelto chissà quale cica Allora Amore, ma devi smettere di buttare le cose sempre così Allora, iniziamo, vedo già un po' da un po' Quelle sono mie, vero? Sì Allora, qua abbiamo delle bacchette che in realtà sono in omaggio Il primo paio di bacchette in legno sono offerte da Alga Market E allo sopra ha una donna, una geisha, penso si chiama, se ricordo bene Mentre il secondo pacco sono nere, questo lo comprate io, penso sia un costato un euro E hanno anche su un portino di legno molto carino Poi, queste sono mie No, quelle sono mie No, ma sono tutte in carina A te c'è la signorina Mmm, va bene Poi, prossimo ci sono i funghi shiitake Che se ne mangiate in ristorante cinese normalmente li vanno questi Sono, penso, 50 grammi, sì E ad occhio saranno 3, 6, 9, 12, una ventina di funghi E i 20 funghi penso miglioreranno un annetto Se vi può interessare li abbiamo pagati 3, 15, 19 3, 19 3, 19 funghi shiitake Poi, abbiamo mezzo chilo di miso Che io ho davanto per la zuppa di miso E questo è il tema per fare la zuppa di miso E questa l'abbiamo pagata 2, 20 euro Esatto, ce n'erano due sacco di tipi Ma gli altri avevano scadenza di due mesi Quindi non mi fidavo molto No, direi di no Poi E' gelatinoso Sì Questo si chiama Dashi Nomoto Che sarebbe il brodo di Dashi L'ho filizzato L'ho preso due pacche perché costavano 1, 1 euro l'uno 2 euro l'uno No, no Ah no, aspetta Il totale è 5,30 euro Quindi 2,65 euro l'uno Perché dovrebbero essere Sì, 10 bustine Per due sono 20 bustine Quindi ci farò tonnellate di brodo Perché il Dashi costa 6 euro per una busta E il Dashi sarebbe il tonno essiccato alla fine Tonnetto Quindi questo qua è tonno essiccato? Sì, l'ho filizzato Sì Ho preso la farina di riso glutinoso Con questa qua, anzi, di riso ora posso farci due ricette Dei tortini di riso fatti a vapore con la farina di riso Oppure i mochi Che non so quanti possono piacere Ma che le ho provate sono delle palline fatte con la farina di riso Anche ripieni hanno una consistenza abbastanza glombosa e gelatinosa E questi 2 euro Esatto Per 500 400 400 400 grammi Quindi con questa ci faremo i mochi con le tortine di riso Poi andando avanti ho preso il tofu Questo è extra firm Firmo vuol dire tipo sodo penso Perché c'è il tofu morbido e il tofu firm che è sodo Poi, ultimo, malone per importanza Guarda, vuoi vedere? Ehi Questi sono fagioli di soia neri fermentati, giusto? Vedete se ricordo bene? In italiano? Sì, con cildi in olio Sì, olio piccante Questo sarà molto importante per la mia prossima ricetta Costati 3 euro e 50 3 euro e 49 Super giù E proprio poco andrò ad assaggiargli sul pane che ho lasciato dalla cena Così vedo anche quanto sono effettivamente piccanti per regolarmi Ah, scadona giunghe, non mi ricordo se l'ho detto No Fluff Ah, perché c'era la pasta di un po' sotto che l'ho avvolto Vabbè, non credo faccia chi sta con le donne Oddio, d'odore quando E' da una ridi di soia, ne penso A fare ridi di soia Ma è leggermente diverso l'olore della salsa di soia Vediamo un po' come sono Sono già parzialmente schiacciati Sembra più una poltiglia Schiacciamoli ancora un pochino Tra l'altro sembrano molto asciutti Questi andrebbero tritati col coltello prima di cucilarli ma nessuno ha alcuna voglia di prendere il tagliere e mettermi tritare Assolutamente no Non ti farò fare questo l'enorme a mezza di sera No, è di canta Degustazione in corso Allora? Allora, il pane all'olive, però Poi ve lo uccisiamo perché devo capire come spiegarvelo Allora, la consistenza è davvero carnosa Nel senso che hanno molta consistenza come fagioli, poi sono piccolini E hanno una consistenza davvero carnosa, sembra di mangiare quasi carne tritata Ma ti piace? Come gusto sembra di mangiare salsa di soia e carne di sielo, particolare Ma non sa tanto di soia, è leggerissimo e delicato E poi non sono particolarmente piccanti Beh, ho capito che poi li proveremo nella prossima ricetta che farai Esagerate Tanto picca No, no, se no te la devi Cerca di mettere i fagioli sulle lingue e poi sentire anche le consistenze A me ricorda la carro affermicata Se l'ha affermicata ero Non è male Bene, io, allora, questa, diciamo, era la nostra spesa Giappo La nostra spesa Giappo Per le prossime ricette di Gabriele E le faremo sempre in versione Full of food work Soprattutto per il tofu No, io te devo nerdi in cucina Sempre mi sono nerdi in cucina Il tofu sarà la prossima ricetta che voglio fare il prima possibile C'è chi mi ha detto di fare il ramen alla Naruto Che non ho ben capito Non ho ben capito che cosa si intenda per ramen alla Naruto È l'anima, quello dell'anima Tra l'altro, piccola parentesi Per chi non lo sapesse Avete presente quei cosi rotondi che sono bianchi con una specie di spirale rosa dentro? In giapponese si chiama Naruto Davvero? Ah, ecco perché il nome è Naruto E vengono fatti con tipo il merluzzo Cotto Poi non so se è frullato e steso con qualche amido speciale Per cui poi avvolgendolo si fa la nostra pasta Ma l'avevo letto da qualche parte Però adesso non ho capito la nostra Ho visto la ricetta su Youtube Bene, allora poi Però non ho capito la nostra Bene ragazzi, era questo Era l'acquisto che noi abbiamo fatto ad Asia Market Appunto con questi prodotti in giappo E sono molto contenta del packet Perché sono bellissime Anche perché le nostre, quelle che abbiamo, si erano un po' sgualcite E niente ragazzi Noi speriamo di avervi tenuto compagnia Di avervi incuriosito con questi prodotti appunto giapponesi Da cui secondo me ne trarremo delle ricette veramente sfiziose Fatemi Anche perché Cosa? Fatemi sapere se avete qualche ricetta in mente Anche con queste cose E se conoscevate il Dashi Misor e queste cose qua Cosa stai facendo? Volevo sentire se fossero leggere Ma come vuoi che siano? Sono pacchette Eh, non è scontato Sono abbastanza Però sono troppo leggere Il bimbo gioca perché deve Ah, che bella sensazione Sono liscissime Però sono troppo leggere Sì Devo trovare delle bacchette belle pesanti Bene ragazzi Allora il video di oggi può anche finire qua Speriamo appunto che vi siano interessati questi prodottini E speriamo Che voi siate curiosi di vedere le ricette che abbiamo in servo per voi Che Gabriele è in servo per voi Ovviamente a tema asiatico per lo più Detto questo Non mi rimane che dirvi Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi già al canale Lasciate un bel pollice in questo video Vi è piaciuto Anzi Lasciate un bel pollice in su Per un supporto a Gabriele E il suo grembiule Dai mille addominali Eh, lasciateci un commento sotto Che per noi è molto importante Tante indicazioni Ve le abbiamo già date E noi ci vediamo nel prossimo Divertentissimo Simpaticissimo video Insieme Un bacio di grande grande Buona notte Ciao 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 Ciao